Siamo con Marco Giordani, presidente dell'associazione Simmachi e Lennon di Fano e siamo anche alla prima giornata di apertura della loro stagione di palestra, se non sbaglio. Allora Marco, subito una domanda così veloce e veloce. Sei presidente dell'associazione, istruttore della palestra e anche rievocatore appassionato da anni, giusto? Giustissimo Federico. Abbiamo iniziato tanti anni fa questa passione nel 2005 e poi si è evoluta e siamo qua alla quarta stagione del Simmachi a Ginnasium e quindi siamo carichi e pronti per questo Open Day. Simmachi a Ginnasium, ci puoi un attimo descrivere che cosa si tratta, se appunto è una palestra o quant'altro, se ci si può iscrivere tutti quanti, come funziona? Allora, questa è una palestra, è aperta a tutti e il nome deriva dal nostro gruppo storico che è Simmachi a Lennon e è nata dalla necessità di allenare appunto l'esercito, visto che rivocavamo gli antichi greci e quindi allenarlo durante l'anno e nel 2010 abbiamo iniziato questa avventura e oggi ci siamo definiti meglio e abbiamo ampliato le nostre discipline quali Oplomachia, Pancrazio, Toxeio, che esattamente Oplomachia significa scherma antica, quindi combattimento in armi, Pancrazio era combattimento, lotta greca libera e Toxeio è il tiro con l'arco storico. Simmachi a Lennon, che cosa significa e soprattutto dove siete stati? Perché so che avete girato un pochetto il mondo quest'anno. Abbiamo girato parecchio, quest'anno siamo diventati internazionali, per la prima volta la passione di tutti i nostri soci ha dato i suoi frutti perché siamo diventati internazionali, siamo stati chiamati in Francia a rievocare sempre il nostro popolo preferito, l'antica Grecia e insieme ai gruppi più importanti di tutta Europa esattamente ai R.E.S. e Olbe de Provence, nel sito archeologico di Olbe de Provence. Penso che allora oltre a fare della fatica in palestra qui ci si divertì anche, ma allora io so anche di un'altra cosa ovvero che vicino a noi, ovvero vicino a Chiaravalle state per aprire di nuovo i corsi quindi vi avvicinate anche alla parte sud delle marche, state veramente allargandovi, ci puoi un attimo dire quando e come vi possiamo trovare? Ci stiamo allargando, ci stiamo provando, noi ci proviamo, se volete venirci a trovare apriamo da quest'anno il nostro secondo ginnasium, esattamente a Chiaravalle di Ancona e l'apertura è prevista per il 17 di ottobre, venerdì, quindi noi per ogni venerdì, cioè scusate, un venerdì al mese ci potrete trovare in questa palestra dove potremo mostrare una o due discipline della nostra associazione e speriamo che possa piacere al popolo anconetano, ecco. Perfetto, perfetto, quindi dove vi possiamo trovare? Siete anche internauti, quindi abbiamo un sito internet, dei contatti eccetera eccetera quindi se volessimo cercarvi per Google? Basta che digitate Simakia o Simakia Lennon su Google, il nostro sito è www.simakia.eu e seguiteci anche su Facebook, Twitter, Instagram, abbiamo tutto quello che più ne metta Beh, dalle immagini qui vediamo che insomma non si scherza affatto ci garantisci quindi che sì, un allenamento ma l'altra parte si sta tranquilli, non ci si fa male? Non ci si fa male, io domani devo andare a lavorare come penso tutti quindi diciamo infortuni zero, ci si fa più male a calcetto quindi venite pure nel Simakia Ginnasium Grazie, grazie a Marco Giordani Grazie a Marco Giordani